L'arresto di un amministratore 43enne è la terza ordinanza di custodia cautelare che su mandato della Procura Europea di Milano ha portato in carcere i vertici di una società italiana accusata di emettere fatture per operazioni inesistenti. Obiettivo importare dall'estero e rivendere sotto costo dispositivi informatici senza versare all'erario i tributi previsti. Il volume di quanto sottratto al fisco ammonterebbe circa 50 milioni di euro. Il sistema utilizzato rientra in quella che la Guardia di Finanza di Gallarate chiama Frodi Carosello. Nel corso delle perquisizioni domiciliari le fiamme gialle hanno trovato e sequestrato anche due orologi di lusso, alcuni telefoni cellulari e tre fucili da caccia.